E salve a tutti amici recuperiani e bentornati in questo nuovissimo video Oggi sulla primissima missione di Skier Che in sostanza che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare i 5 3M che siano almeno al 50% di durabilità Quindi massimo devono essere 20 Cioè devono essere almeno 20 perché 40 è il massimo che può avere Come durabilità e 5 thoughts Ora diciamo sono stato un coglione perché ho eliminato qualche clip di alcune missioni Non mi ricordo, non so di quante, forse di una, forse è andata bene Però sicuramente una della terapista è andata Perché avevo registrato su quella dei Salewa che alla fine non ho più Cioè quando sono tornato dalla Spagna ho visto che mi erano rimasti tipo 100 giga disponibili Nel mio hard disk E niente ho eliminato tutti i video di Tarkov perché pensavo di averli già usati tutti Invece no avevo registrato, c'era ancora qualcosa registrato lì da montare E quindi c'era quella missione quindi spero di aver fatto tutto il resto Comunque Diciamo per allungare un pochettino il brodo Proprio mi sembra, anzi c'era anche un pezzo di questa missione che avevo registrato delle 3M Ho messo un piccolo pezzetto di gameplay insieme a Grey qua su Custom Che avevamo ucciso 3 player mi sembra Quello che c'era là fuori, quello che ho ucciso di sotto e questo qua E quindi Niente Non volevo farlo durare 40 secondi perché se no adesso era già finito Comunque che cosa bisogna fare? Questi 3M, questo era l'ultimo mi sembra erano gli ultimi due Era 37 e 7 E niente arrivo qua, avevo gli ultimi due da dargli Erano tutti giusti Però mi mancavano i Thods Fortunatamente all'uno Skier li vende Non costano niente Allora boom si va a comprarne 3 E chi si è visto si è visto Non mi ero preoccupato di prenderli E niente quindi E' tutto alla fine Molto semplice, easy Dovete giocare per farla E ciao Ovviamente tutto si trova sugli scav La prossima missione è l'estruzionista Diciamo in italiano Che cazzo E quindi niente Io spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo che Vado in live 4 giorni a settimana come c'è scritto all'inizio del video E niente Noi ci si vede in un prossimo video Che sarà la seconda missione di Di Skier Sarà O qualcuna di Bravo Insomma ne ho ancora un po' da caricare Quindi noi ci vediamo alla prossima E ciao ciao È un... È un...